Buonasera a tutti, qua è Cesare che vi parla, vi voglio fare gli auguri di Buon Natale, Felice Anno Nuovo. Adesso noi ragazzi, se me ne ci prenderemo una pausa per festeggiare il Natale, il Capodanno, come lo farete voi. E io, con il mio spirito e il mio animo, lo farò con voi, insieme alla vostra casa. Non vi ruberò nelle case come Lupin, però sarò sempre con voi nel vostro cuore, spero. Vi voglio bene, Felice Anno Nuovo.